Ciao ragazzi, io sono Nicodine e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida andiamo a completare gli incontri principali, Barcellona vs Real Madrid rimanete fino alla fine perché apriamo anche i pacchetti e mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella per stare sempre aggiornati con i miei video andiamo, Barcellona vs Real Madrid, El Classico allora, iniziamo dal portiere, questo è stato giocatore mio cerco di usarli, quanto più riesco a usare i miei così non spendo molti soldi, gli altri più o meno li ho acquistati tutti più o meno ok, questo pure è mio anche questo qua ho risparmiato un ben po' di soldini perché come vedete 2, 3, 4 giocatori miei vabbè, non costano molto a parte quelli argento raro, anche qualche 100 coins di più sono stato tornato perché anche questo era mio questo purtroppo 350 ma niente in confronto ai premi che ci danno prendiamo, prendiamo questo pacchetto giocatori misti prime e andiamo ad aprire perché ho 2 pacchetti alti se non mi sbaglio si andiamo con questo, giocatori oro oh, bello bellissimo, diata bello ma dal pacco 7500 sicuramente non è un gran che altri 30.000 altri 30.000 per giovanni ma grazia ma come è gentile fifa oggi con me anzi no, vado a metterlo subito se no mi dimentico facciamo così metti sul mercato e via tutti gli altri me li tengo perché come vedete alle sfide mi servono i doppioni pure li mandiamo tranquillamente al club al club al lista trasferimenti poi abbiamo questi due pacchi che sono un po' più forti però già il nostro budget l'abbiamo fatto abbiamo venduto anche top saba con 30 31.000 se non mi sbaglio Odegaard nice un bel ciocchi che questo sicuramente riuscirò ad inserirlo abbiamo Odegaard Akanji buono, 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 buono è tutto profitto ragazzi è tutto quindi seguitemi perché vedete che quest'anno riusciamo a fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso per adesso qualcosa mi sta dando non mi posso lamentare però piano piano vediamo ah volevo un all ball out per voi però ma niente dai 77 Klaus dal pacco più forte che avevo un po' più più buono non mi ha dato niente da quello 7500 piatta nice berardi 82 non lo userò però lo lasciamo al club perché serve ok questo è il club ragazzi voi fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualcosa di buono io vi ringrazio e ci vediamo con un prossimo ciao ciao